Stamane un incontro con l'autore all'Istituto Comprensivo La Fata Archimede. Lei è l'autore del libro, preside. Cosa dirà ai ragazzi per presentare i suoi scritti? L'incontro con le scuole è uno dei momenti più belli di questa attività di presentazione dei miei libri. Perché i libri sono scritti per essere letti da tutti, ma soprattutto dai giovani. Tra l'altro Caleroscopio è un libro la cui protagonista, un romanzo insomma, la cui protagonista ha un percorso esistenziale abbastanza simile a quello dei giovani di oggi, quindi un percorso fatto di momenti di splendore, ma anche di momenti di crisi esistenziale e di difficoltà del rapporto col mondo, con la società, perché i valori e la realtà spesso contrastano nei giovani. Quindi cercherò di puntare il riflettore su questi aspetti del libro, che si addicono molto alla condizione giovanile e che poi attraverso questo percorso duro della protagonista però arrivano a un momento di luce, a un momento di speranza e quindi a una ricerca di valori perché per i giovani si addice parecchio. Lei ha scritto anche altri libri? Sì, questo è il quattordicesimo dei libri pubblicati. Non mi sono occupato solo di narrativa, mi sono occupato anche in giovinezza di poesia e poi di teatro, che è un'altra grande mia passione. Adesso da molti anni prevedigo la narrativa e quindi sono tre romanze di fila che hanno avuto come editore un editore di Papia, Gianni Uculano, e sono Donald Algis e Fantasima Saracina, Sicilia My Love e appunto Caledoscopio. Ha in itinere quindi altri scritti? Dovrebbe uscire entro l'anno un libro di racconti in team con il gruppo Sicilia My Love scritto con altre tre collaborazioni che dovrebbe essere anche di maggiore attualità. Preside, continuano gli incontri, possiamo definirli formativi, qui all'Istituto Comprensivo Archimede La Fata, con un unico obiettivo, quello di tramandare cultura tra i banchi di scuola. Sì, e di tramandarla fra l'altro con autori che mi onoro di avere qui e che sono della nostra terra, che sono siciliani, quindi conoscono bene, sono innamorati, e non solo conoscitori, ma anche sono innamorati di tutto ciò che è questa terra, in modo virtuoso, ma purtroppo anche spesso non in modo positivo, quindi anche con modelli negativi. Enzo Randazzo non solo è un amico personale, ma è anche un ex preside, è una persona di cultura che io stimo molto e ho partecipato in questi ultimi anni a tutte le presentazioni dei libri, ho sentito il dovere di presentarlo anche in questa scuola, ai miei alunni, perché sicuramente questi, come lui ha detto, questi testi che lui ha scritto negli ultimi anni arricchiranno la loro formazione. Sono dei testi che colpiscono perché vi è un percorso, un percorso di vita che poi si conclude, come lui ha detto, in maniera positiva, però che mette in evidenza tutte le difficoltà dell'adolescenza, le difficoltà che una persona deve incontrare, che un ragazzo nel suo cammino deve incontrare durante la vita. Quello che mi piace di Enzo è il suo modo di affrontare la realtà in maniera disillusa, cioè lui vede la Sicilia con tutte le bellezze, le virtù che questa terra ha, ma anche negli aspetti negativi che vanno comunque corretti, quindi è una visione oggettiva e obiettiva, che mette nelle condizioni anche di riflettere sui passaggi che vanno fatti a volte per risolvere i problemi che questa terra ha. Gisella Mondino, coautrice dei libri di Enzo Randazzo, oggi a scuola con un obiettivo, quello di tramandare cultura e sicilianità. Sì, il nostro obiettivo come team Sicilia Melov è quello di avvicinare i ragazzi a conoscere un po' più da vicino la Sicilia e soprattutto quelle pagine della storia della Sicilia che non sono molto attenzionate magari nei manuali di storia, oppure quella pagina recente che però, nonostante sia recente, i ragazzi non conoscono. Ogni volta sono sempre incontri nuovi, diversi, perché cambiando il pubblico e cambiando i giovani c'è un entusiasmo sempre nuovo in noi perché crediamo molto nel valore della scuola, nel valore degli incontri con i ragazzi a cui bisogna dare fiducia, bisogna averli ascoltare investendo su di loro, sulle loro potenzialità come questa scuola appunto sta facendo. Anche perché ricordiamo i giovani rappresentano il nostro futuro. Assolutamente non è una frase fatta, per noi che facciamo scuola, come per chi fa informazione, affermare che i giovani sono il nostro futuro, significa investire sui giovani. Professoressa Agata Brigati, oggi un incontro con l'autore e si è parlato del libro Caleidoscopio. Lei è stata pura una delle relatrici. Sì, noi abbiamo voluto organizzare questo incontro con l'autore perché il professore Randazzo si è dimostrato disponibile ad incontrare i nostri alunni perché crede tanto nella possibilità che questi nostri giovani oggi abbiano di potere redimere la Sicilia, un po' e l'Italia tutta. E quindi l'idea di leggere alcuni passi del libro e di poter poi sentirli raccontare dalla viva voce dell'autore e della sua collaboratrice Gisella Mondino è stato per noi un modo per far entrare i ragazzi in situazione. Come amo sempre dire ai miei alunni, leggere e vivere tante avventure. E quindi in questo modo hanno avuto la possibilità di vivere attraverso tre epoche diverse perché il romanzo è organizzato su tre reincarnazioni, una nel Medioevo, una nell'Ottocento e una nel Novecento e quindi hanno avuto modo di rivivere questi periodi storici attraverso le figure dei personaggi. Anche perché l'autore ha detto proprio che il tema centrale di questo libro si addice molto agli adolescenti. Sì, infatti era proprio questa l'idea, quella di far capire ai ragazzi come vivere la realtà, la quotidianità attraverso la vita di questi protagonisti dei libri.